Solo gli ecologisti riuniscono tutti. E Fransensoumi non contiamo? Siamo noi che abbiamo più voti. Possiamo anche fare a meno di voi. Basta! Adesso fatela finita! Voi parlate solo di passato. Ce l'abbiamo tutti un passato, un passato poco luminoso, 40 anni di sconfitte. Gli Insoumi non vogliono i socialisti da cui loro stessi provengono. I comunisti vogliono risuscitare senza credere in Dio. Gli ecologisti vogliono una società nuova senza cambiarla. E i comitati civici non vogliono sporcarsi le mani facendo politica. Non vinci se fai tutto per perdere.